Non solo e non più Gay Pride, ma semplicemente Pride Abruzzo, perché i diritti sono di tutti e per ricordarlo c'è ancora bisogno di manifestazioni come questa. Un promemoria festoso, ma anche partecipato e riflessivo, con un programma settimanale fitto di eventi in tutta la regione, gran finale il 24 giugno, corteo a Chieti con partenza alle 15.30 dalla Villa Comunale. Sarà una lunghissima settimana di eventi, inizieremo domani sulla maiella, la maielletta al block house, dopodiché attraverseremo tutto l'Abruzzo con eventi culturali, di socializzazione e di informazione. Il lunedì saremo a Teramo, martedì all'Aquila, mercoledì nella provincia di Pescara, giovedì, venerdì e sabato è dedicata alla provincia di Chieti, con il corteo finale che si terrà il 24 giugno proprio nel centro storico di Chieti. Il Pride è una manifestazione rivolta ovviamente a tutti e tutte, non parliamo più di Gay Pride ma parliamo di Pride, proprio perché è una festa di tutta la collettività e una richiesta di tutta la collettività per un riconoscimento della propria libertà. Infatti non parliamo più solo di lotta all'omolesbobitransfobia ma anche della misoginia, della lotta all'abilismo, quindi di discriminazioni di genere, di discriminazioni per le persone con disabilità. Quindi è una manifestazione che pone al centro il principio dell'autodeterminazione di tutte le persone. Come la città accoglierà questa manifestazione? Nel miglior modo possibile. Tenga conto che Chieti è l'unico capologo di provincia in Abruzzo a non aver ancora accolto la manifestazione del Pride. La mia amministrazione ed io in particolare ho voluto fortemente che questa manifestazione si facesse a Chieti perché ribadire la salvaguardia dei diritti civili non è mai poco e soprattutto di questi tempi è fortemente necessario ribadirlo. Per cui Chieti, ospitando il Pride, ha voluto alzare il livello di educazione civica, istituzionale e giuridica. E di questo sono non solo molto contento ma anche fiero. Il fatto che siamo tutti uguali di fronte alla legge e di fronte alla società può sembrare un paradosso doverlo ribadire continuamente ma evidentemente finché c'è necessità di queste manifestazioni vuol dire che l'Italia in qualcosa ancora è carente. Grazie Grazie Grazie